Eccoci qua Logan. Eccoci qua, si deve tornare a voi. Allora, oggi di cosa parliamo zia? Di niente, non so. Oggi parliamo di Novercane, la nuova compagnia telefonica commessa nel telefonino, giusto? Allora? Sono sempre nuove compagnie, fanno sempre modelli nuovi, ma quello giusto non arriva mai. Allora, facciamo un riassunto di cos'è Novercane. È una compagnia telefonica nata nel 2008 tra la collaborazione di Accotel e Intesa San Paolo. Ha fatto l'esordio sul mercato il 30 marzo 2009. Il nome Novercane nasce fra l'unione della parola novità e ricerca. Nel logo c'è un omino che telefona. Si basa sulla rete team, infatti non ha una rete sua, ma è completamente tutta sulla rete team. Allora, io sono passato dalla 3, che ero passato a marzo, oggi sono passato a questa nuova compagnia. Perché ho fatto questo cambio? Non c'è un'idea di come che va adesso. Ma la domanda è, perché ho fatto il cambio? Perché pagando uguale ho più cose. Perché con la 3 pagavo 4 euro al mese, no? Si. Avevo 100... Non ti può pagare 4 euro al mese? Mi vedete appuntando la roba dopo? Allora, pagavo 4 euro al mese, avevo 120 sms, 120 minuti e un gigabyte di internet. Però... Mi hai sentito, non è che per la divisione è ancora che hanno detto. Però l'inculata della 3 qual era? Era la suddivisione su base settimanale, quindi 120 minuti e 120 sms venivano suddivisi in 30 per settimana. E la stessa cosa capitava con il traffico internet, quindi un gigabyte veniva diviso su 250 mega settimana. Invece... Dimmi, dimmi. Invece, io penso che è una roba che dura da poco. Eh? Sarà tutto un sguio, vai, si principi e dopo si calmeranno, vedrai. Perché vedranno che le cose dopo cambiano. Invece con Noverka ho la tariffa. Tariffa base 4 più 5. Consiste nel 4 euro cent al minuto per le chiamate. Le chiamate. 5 euro cent per messaggio e 0 scatola risposta verso tutti. Questa è la tariffa. Io invece ho attivato la promozione Steel Pack che con sempre 4 euro al mese come la All-in Small D3 mi dà 200 minuti, 200 sms e 1 gigabyte di internet. Senza limiti settimanali. La telecom verrà piano piano così verrà eliminata penso io. Quindi senza limiti settimanali. Io se voglio usare 1 giga tutto in un giorno posso. Stessa roba per i messaggi, stessa roba per le chiamate. Ovviamente essendo in palestra o a casa o il wifi sia qua che là, io attacco sempre il wifi. Quindi uso whatsapp, uso i message e gli sms in verità non li uso praticamente mai. Ne spedirò 10 al mese perché ormai abbiamo tutti i whatsapp. No, ovviamente loro dal loro sito puoi gestire tutta la sim, ricariche, promozioni attive. Questa promozione è uscita, bisogna provare. E noi proviamo, noi stiamo sempre pronti a provare le robe nuove. Si prova, si prova, se va in vado, se non va pazienza. Eh. Perché cambiano sempre i modelli, sempre le cose. La telecom non avrà per niente più, non avrà una fine di quello anche. Perché è troppa concorrenza dentro. Ma è giusto zia, la concorrenza fa bene. Certo, perché tutti cercano il suo interesse. E devo vedere il cliente se cerca il suo interesse dopo. Ma la concorrenza fa bene zia, chi ti dà... Fa bene, ma dura un poco però. E dopo va su. E va bene il fraccio. Eh. Ricordiamo a tutti che oggi è partita la promozione back to school di Apple e noi abbiamo già fatto l'acquisto dell'anno. MacBook Air da 11 pollici, configurato con 256 giga di SSD. E' facile, si dice. Mese di 70, anche 80 euro che pago io al mese. E pagare 4 euro serve troppo comodo, ma non dura per me quella roba lì. Eh, speriamo, no? Perché io non posso avere il telefonino. Non sento. Tu non hai il telefonino, tu hai... Hai Vilma, il telefono più bello che sia. Ti piace a te il suo telefono? Il suo telefono, zia, ti piace? Eh, non mi piace, mi ha voglia, no? Devo tenere quello lì, quella non lo uso mai. Eh. E non sento. Quindi. Quindi. Un saluto a tutti. Sì. E alla prossima. No, ci rie finite. Vediamo l'ongo qua cosa fa. Logante. Con l'orecchia aperte. Ciao. 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 Grazie.